Milano Leonardo 500 è il programma che il Comune di Milano ha realizzato per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Milano è la città dove Leonardo ha vissuto più che in ogni altro luogo durante la sua vita ed è soprattutto il luogo dove ha trovato il terreno più fertile per far esplodere il proprio talento creativo attraverso realizzazioni molto importanti che sono rimaste nel patrimonio materiale della città, pensiamo su tutti ovviamente alla ultima cena, ma anche lasciando molte tessere di un mosaico di patrimonio immateriale che ha caratterizzato lo sviluppo urbanistico e poi ovviamente anche culturale della città di Milano. Particolarmente prezioso è il convegno di oggi che viene realizzato grazie all'Accademia di Brera e che ci permette di focalizzare un punto estremamente interessante per comprendere la figura di Leonardo da Vinci, quello sia l'importanza che la musica ha avuto nel suo percorso di formazione e anche nel modo in cui ha potuto presentarsi alla Corte degli Sforza e diventare poi di fatto uno dei protagonisti della scena artistica creativa della nostra città. Capire oggi quale sia in un certo senso l'ascito dell'eredità musicale di Leonardo da Vinci è difficile perché la buona parte della sua attività è legata ovviamente a un aspetto che è impossibile oggi da catturare perché è ciò che lui eseguiva come musicista, era uno strumentista e anche sembra cantore di grande qualità. Possiamo però da questi frammenti ricostruire un aspetto che credo sia molto importante ovvero sia quello di capire come all'epoca all'interno di una prospettiva estremamente multidisciplinare come quella che Leonardo da Vinci incarnava la musica fosse un elemento molto importante della sua competenza complessiva dal punto di vista di tutte le discipline del pensiero creativo.